crotch bind set benvenuti cari amici alla puntata numero uno di storie di rugby il podcast con anonima piloni e oltre a me che mi vedete qua in video tutti i giorni questa volta ci sentirete anche sulle varie piattaforme podcast qui sul canale d'unpatragbi anche in video e sulle piattaforme podcast probabilmente solo nel formato audio c'è la voce narrante di questo podcast la memoria storica il federico pastore della palla ovale il la penna più creativa del web ladies and gentlemen christian lovisetto anche meno ciao a tutti grazie per l'accoglienza anche purtroppo dopo te lo pago di bonti bonifico nessun problema per questa presentazione vai vai passo iban passo iban perfetto eccoci qua cominciamo beh cominciamo oggi a parlare di alcune storie ovali che hanno ricalcato la scena hanno calcato la scena del rugby italiano internazionale degli ultimi perdonatemi 25 30 anni più indietro devo ancora attrezzarmi per i miracoli almeno personalmente lì poi chiederò aiuto a danilo oggi parliamo perché io ho 70 anni ovviamente no vabbè però però secondo me lo segui da un po più di me quello dico io sì però io ho avuto un vuoto perché io poi sono andato all'estero quindi insomma credo che che tu abbia anche poi fatto tanto lavoro di ricerca quindi ad esempio per esempio oggi facciamo un po così di mettiamo in contesto gli amici che ci seguono e quindi spieghiamo dopo l'intervista che abbiamo fatto con christian c'è subito stato una bella sintonia abbiamo detto dobbiamo fare qualcosa e allora è nata l'idea appunto di questo podcast anche perché poi tanti ascoltatori del canale mi hanno chiesto ma perché non fai più storie di rugby perché non ne parli più ne faremo in versione video però abbiamo pensato un appuntamento a vostro rischio e pericolo a vostro rischio e pericolo esatto un appuntamento settimanale dove appunto christian ci racconta un po di storie con retroscena vari del di alcuni personaggi del rugby italiano e mondiale e la scelta di questa prima puntata mi ha sorpreso perché con christian ci siamo sentiti e io magari mi aspettavo detto christian scegli tu e mi aspettavo che christian magari mi tirasse fuori qualche argomento più mainstream che ne so io paris grenoble ma ne abbiamo già appena parlato troncon non lo so che sono tutte cose di cui giovannelli che sono tutte cose di cui magari parleremo in futuro e invece christian mi ha detto guarda danilo io c'ho una spina che mi voglio togliere facciamola subito voglio debancare debancare il caso franco smith e allora io ho detto figo bello mi piace questa prospettiva e allora parliamo di franco smith io non so non so se sarà il bene del tuo canale questa questo podcast questa puntata guarda però no infatti scherzi si ci tenevo perché io ho un problema con alcune cose che trovo scritte online che sia su forum che sia su siti io cerco sempre la fonte e quando vedo alcune cose scritte che non sono corrette ma possono essere non corrette sia per ingenuità comunque di chi le scrive o chi le riporta o per malafede ma per fortuna sono pochi i casi che ho trovato quasi nessuno io ho qualcosa dentro che comincia a farmi più rito diciamo che uno degli argomenti che più mi ha colpito da questo punto di vista è diciamo la storia azzurra di franco smith quindi da ct ma ci arriviamo dopo al alla parentesi con la nazionale italiana di franco smith diciamo che la sua storia suo intreccio con l'italia nasce non tanto a treviso come tanti potrebbero immaginare non a bologna dove è la prima squadra professionistica dove è venuto a giocare ma a modena ma dai ecco vedi questa già non la sapevo nemmeno io quindi vai racconta lui nel 1994 tipo a 22 anni è uno dei tanti giocatori stranieri che soprattutto nell'emisfero sud che nei mesi di di vuoto chiamiamolo così reggistico nell'emisfero sud viene a tenersi in allenamento a non arrugginirsi e viene a giocare in italia viene chiamato dal modena all'epoca giocava in nella serie a due le squadre all'epoca in nelle serie a due e b se non erro avevano a disposizione se non mi sbaglio due slot di giocatori stranieri e questo diciamo che è una cosa che sfrutterà abbastanza viadana in quegli anni soprattutto più avanti visto che in un anno gli arriveranno a feachi e tanomaga in modi abbastanza clamorosi anche però ne parleremo magari un'altra volta il classico ma questa è un'altra storia questa va raccontata in futuro la racconta quando vuoi e franco smith arriva a modena gioca un anno a modena lui dice le prime cose che dice sono sì mi sono abituato molto presto i tortellini un po meno un po meno alla nebbia effettivamente se vieni da sull'africa è difficile trovarsi ad avere a che fare con una cosa che assomiglia alla nebbia dell'emilia romagna del veneto o della bassa lombarda esatto cristian perché non diamo per scontato nulla ossia magari anche chi ci ascolta poi sulle piattaforme di podcast magari non sa che stiamo parlando di un ragazzone sudafricano che che appunto per maniera nel per caso quasi viene paracadutato in in italia sì diciamo che lui in inizio anni 90 comincia a giocare da professionista in sul africa e graviterà soprattutto tra citas pumas e poi verso la fine degli anni 90 arriva in maglia spring box per due anni vestirà più o meno non ne veste tante di maglie dell'africa della nazionale sull'africana vestia una quindicina più o meno non mi ricordo il numero più apertura ma anche primo centro giocherà nella nazionale allenata da nick mallet altra conoscenza del rugby italiano ed è nella squadra che tra le altre cose farà la storia del galles ma dalla porta del retro perché dalla porta su retro perché è la più grossa sconfitta del galles nella sua storia un 96 a 13 in cui franco smith è l'apertura del sud africa segna anche una meta mi sembra ma non è lui il calciatore designato ecco da da giocatore io mea culpa l'ho visto poco giocare le poche volte visto giocare l'ho visto a treviso quindi in un altro contesto in un altro livello e con un rugby che era già cambiato minimo rispetto a quello degli anni 90 è un'apertura solida con un bel gioco al piede di spostamento meno dalla piazzola se è vero che poi anche a treviso non sarà quasi mai l'apertura il calciatore designato dalla piazzola gioca non molti caps ma prendiamoci anche conto che stiamo parlando di uno di sud africa più forti che ci siano stati nella storia aveva un paio di avversari non di poco conto perché aveva honeyball aveva gaffi du toit mi sembra se non mi sbaglio e poi avevi comunque un allenatore che non era esattamente una persona molto malleabile e quando aveva preso delle decisioni solamente un miracolo sportivo riuscito a fargli cambiare idea che è quello di anni debì ai mondiali 99 perché lì quello è un miracolo sportivo parliamoci chiaro intravedo altre storie che racconteremo nelle prossime puntate io io sono il re dello spoiler non so se no ma va benissimo e poi nel 99 viene in europa gioca un anno nei dragons e poi viene a bologna nel 2001 alla identica che è la squadra di bologna che era arrivata nella massima serie se non mi sbaglio li giocano anche in due non so se in due momenti separati insieme i fratelli cuttita però è una però è squadra che nel giro di di una stagione retrocede una stagione un massimo due adesso non retrocede perché c'erano dei meccanismi del campionato italiano in quell'epoca che erano veramente cervellotici da un certo punto di vista sì ovviamente invitiamo anche tutti coloro che vedono il video e che ci ascoltano magari raccontarci le loro esperienze se qualcuno ad esempio giocava magari in quel bologna lì se qualcuno andava a vedere qualcuno e segnalarci anche magari qualche piccola inesattezza perché ovviamente non è facile risalire cioè non è come il calcio che hai tutti i dati eccetera non è facile sempre risalire al numero esatto di presenze di cap al a chi c'era chi non c'era quindi insomma si va un po si va un po a memoria e soprattutto anche per un altro motivo perché comunque non si finisce mai di imparare e si impara cose nuove io sono solo contento certamente quindi andate ovviamente anche per me andate tranquilli da quel punto di vista e nel 2002 arriviamo alla prima data un po storica lui arriva viene acquistato dal benetton treviso benetton treviso che in quegli anni è la squadra è forse la squadra italiana più forte degli ultimi 30 anni 35 soprattutto a livello europeo nel 2004 2005 arriverà a vincere tre partite in heineken cup e nel girone non passa al girone però al momento io magari non sono bravissimo nelle statistiche però danilo io altre squadre che vincono italiane che vincono tre partite nel girone di di heineken cup non me le ricordo credo che non ce ne siano state è una squadra fortissima perché quella del 2004 2005 c'è una mediana che è franco smith troncon l'estremo è gonzalo canale ai centri puoi permetterti il lusso di mettere marius gusen io non so se avete mai visto giocare marius gusen adesso magari tanti lo conoscono come allenatore della difesa dell'italia o come o come comunque facente parte dello staff dell'italia della nazionale italiana ma come giocatore lui era un mediano d'apertura sull'africano ha giocato anche ha giocato nel sud africa spring box a se non mi sbaglio ma era un giocatore per questi livelli era due spanne sopra e perfino da centro quell'anno ha giocato da centro per la prima volta era un giocatore faceva differenza tant'è vero che in quella c'è in quella sì adesso si chiama champions cup sì effettivamente ma era line che cap e vincono due partite contro bourguenne a casa loro vincendo 34 a 0 e stupendo mezza europa ovale e battono bath in casa bath aveva praticamente metà nazionale inglese tra giocatori che c'erano già con la nazionale inglese giocatori che ci saranno per esempio l'attuale city boardwick in seconda linea barclay che giocherà tantissimi anni da apertura centro quindi una squadra molto valida la battona monigo a bath non va così bene non passano il turno perché abbiamo parlato di bourguenne abbiamo parlato di bath la terza e l'eister e parliamo di altra metà nazionale irlandese visto che odris col darsi shane birne al tallonatore c'è una squadra elvis costello che anche lui ha una storia molto particolare e magari un'altra volta e in italia da giocatore franco smith vince due scudetti e arriva in finale al terzo tentativo che è quello 2004 1500 perdono da calvisano poi a fine fine stagione 2005 smette di giocare torna a aspetta il franco smith giocatore a treviso io ho visto forse un paio di partite di campionato lì mi ricordo aver visto un suo calcio che adesso sarebbe il re dei 50 22 ma con una finta cioè lui era nei suoi 22 ricevuto il pallone carica finta 1 nel finta 2 calcia fa 60 metri e entra nei 22 altra parte sempre un 50 22 che secondo me 22 22 praticamente ma sarebbe secondo me in tutti gli highlights possibili per mesi una cosa che ti ricordi anche la partita magari sono passati vent'anni anche per me adesso no comunque nel 2005 guarda che ti levo il titolo di pastore del del rugby italiano sono più una pecora che un posto bellissima questa arriva beh di appena di scappino il chiodo comincia ad allenare si fa un paio di anni ad allenare il citas come allenatore dei tre quarti poi nel 2007 torna treviso da allenatore e ci rimarrà per sei anni fino al 2013 e in questi sei anni succedono giusto due o tre cosette nel rugby italiano che contano beh andiamo parliamo di due scudetti intanto con con la benetton treviso poi l'ultimo l'ultimo tra l'altro sì tra l'altro l'ultimo finale col via dana e poi comincia l'avventura celtica nel 2010 comincia l'avventura celtica treviso nel frattempo è una squadra che si è rinforzata molto soprattutto dopo la rinuncia alla massima serie di calvisano quindi tantissimi giocatori di calvisano passano a treviso e quindi diventa già una su diventa praticamente la la nazionale italiana con due o tre stranieri di livello franco smith è l'allenatore allora c'è una cosa che a me colpisce molto a livello tattico della benettoni quegli anni allora se andiamo a vedere franco smith apertura giocatore con gli occhi anche dietro la schiena poi sarà un ottimo allenatore di tre quarti ovunque lui vada tranne a treviso non perché non sia un bravo allenatore tre quarti quanto perché quella squadra è ricordata soprattutto per essere tritta carne davanti 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 è un tritta carne clamoroso cioè ci sono due prime linee complete che facevano spavento giraldini tallonatore avevi rizzo de marchi da una parte dall'altra avevi ruglie e altro pilone destro clamoroso che non mi ricordo adesso il nome perché sono una brutta persona e non ve lo ricordo ma e avevi degli stranieri credibili avevi cornel van zain in seconda e robert barbieri in terza poi cominciano anche gli anni di simone favaro cioè è una squadra veramente forte davanti e infatti però cominciano a vedersi anche un paio di cose a livello a livello tecnico tattico anche dietro e si vedono perché comincia a giocare col doppio playmaker doppio playmaker significa che a un certo punto aveva giocava con due mediani d'apertura in campo nello stesso momento cosa che ci tornerà utile dopo nel ragionamento e per esempio mettendo beto di bernardo alberto di bernardo apertura e chris barton e ad estremo o mclean ad estremo e un'altra cosa in cui che aveva intuito all'inizio che praticamente era dovuta al fatto che la squadra fortissima in mischia chiusa fortissima in tush nei raggruppamenti ogni tanto soffriva i rallentamenti quando trovavi la squadra più sgamata la squadra più che ti sporcava i raggruppamenti ti rallentava i possessi andava un po in difficoltà cioè andava un po batteva un po in testa dietro intanto per non lasciare intanto per non lasciare nulla di aperto sono andato a cercarmi la rosa di quel benetton dell'anno 2010 2011 e i piloni erano cittadini costanzo di santo ruie muccignat michele rizzo e basta poi arriverà anche dei marchi già l'anno successivo se non mi sbaglio successivo sì sì probabilmente sì ecco cittadini scusa città scusa se mai ascolterai questo podcast scusami per la dimenticanza e ai talonatori avevano ceccato ghiraldini e sbaraglini per e diego vidal per completare le prime linee scusa se è poco vorrei dire per il livello danni avevi in terza linea sì 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 assolutamente paurosa davanti dietro visto che si si batteva un po in testa quando c'era c'era di rallentamenti o delle squadre più sgamate da questo punto di vista dicevo e prova a fare una variante tattica a più di un mediano di mischia molto elusivi molto elettrici e allora un mediano di mischia fa effettivamente il nove e c'è un secondo mediano di mischia mascherato da ala questo succede quando in campo a un certo punto c'erano sia toby bottes che era arrivato mi sembra l'ultimo anno di campionato italiano arrivato da sudafrica e ugo vori per esempio o comunque semenzato a nove e uno tra gori e bottes all'ala così sfruttavi dei giocatori veloci e comunque avevi sempre un ricambio per il nove se il nove veniva assorbito che mi sembrava una cosa molto intelligente da quel punto di vista perché la tre quarti c'è la tre quarti di quella benetton treviso era una buona tre quarti una buona linea tre quarti ma non forte quanto gli avanti secondo me tra l'altro mediano di mischia ricordo ancora il tempo perché io ricordo che tra l'altro io vivevo già all'estero quindi la benetton la seguivo un po meno però quando tornavo a treviso andavo ovviamente sempre a vedere le partite e ricordo ovviamente quel debutto non so se poi lo vuoi citare perché un po' come l'Italia delle sei nazioni il benetton treviso esordisce vincendo a sorpresa con una rimonta clamorosa nella prima partita e ricordo appunto questa specificità dei mediani di mischia il quarto era Simon Piccone c'aveva appunto quattro mediani di mischia che tutti e quattro erano potevano giocare insomma i giocavano tutti e quattro e c'era questa polivalenza appunto tra i mediani di mischia Pensa Piccone che giocava aveva giocato anche centro con l'Italia di Kirwan per esempio esatto esatto sì sì beh quella partita che hai citato adesso vabbè mi piange un po' il cuore pensare che quelli sono gli scarlet e che l'ultima partita da benetton nel momento in cui stiamo registrando è stato uno scarlet benetton che se non l'avessi guardato forse sarebbe stato meglio per la mia salute Allora speriamo che quando voi vedrete questo video treviso si sia rifatta contro Connacht però nel momento in cui registriamo non lo possiamo sapere No non lo possiamo sapere non posso fare uno spoiler perché tecnicamente non è possibile fare uno spoiler solo per questo Diciamo che in quegli scarlet del 2010 quella era una gran squadra c'era Priestland apertura se mi sbaglio E c'era un diciottenne che debuttava che avrebbe debuttato con la nazionale del Galles e segna due metri e ci fa diventare matti i giocatori di treviso e si chiama George North Che si è ritirato un paio di settimane fa Io ero a quella partita però vedi non mi era rimasto che c'era un diciottenne George North E' che non sembrava un diciottenne di base cioè ci sta che uno non se ne accorga perché era un cavallone di adesso non so le misure ma di sicuro non sembrava un diciottenne io diciottenne me li disegno diversi di base Torniamo a Franco Smith Torniamo a Franco Smith lui resta fino al 2013 Diciamo che allora nel 2013 è un anno agrodolce per la Benetton e per Franco Smith perché Arriva il miglior risultato fino a quel momento per un'italiana nel campeonato celtico Perché la Benetton treviso arriva settima nell'annata 2012-2013 con alcune partite clamorose e con Monigo che è un fortino perché Monigo credo abbia vinto solamente l'Einster credo quell'anno Ma una cosa non è un caso poi se vogliamo aggiungere che il 2013 sia anche il miglior anno della nazionale italiana ai sei nazioni per un po' di anni a quella parte Perché poi causa e effetto non sono esattamente casuali nel rugby Nulla si, nessuno si inventa nulla nel giro di poco secondo me almeno Guarda, adesso io ovviamente baro perché tu vai tutto a memoria io invece sono davanti wikipedia Però l'Einster vinse di un punto L'Einster vinse di un punto Con drop di Ogara Scusi, ciao di Ogara, di Sexton Di Sexton Non ho wikipedia io ragazzi, guardatemi La differenza tra me e lui è che lui è tutto memoria incredibile Però no, però non fu l'unica Vinsero anche i Warriors 24 a 13 E poi vinse anche Alster 15 a 16 Però è vero che arrivo settima a Treviso E insomma si giocava andata e ritorno Quindi si giocavano 22 partite Sì, è un contesto completamente diverso da quello di adesso Esatto Si possono fare grossi paragoni Sta di fatto che Se andiamo a vedere poi Sarà solamente La Benetton di Crowley nel 2019 A Superare questo record andando effettivamente i playoff Va anche detto che Non andavano i playoff le prime 8 Nel 2013 Se non mi sbaglio andavano le prime 4 E poi c'era il semifinale direttamente Eh sì, 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 sì Sì, esatto Perché se non sarebbe andata in playoff anche quell'anno Esattamente Esattamente Poi Succede il patatrack nel 2013 Praticamente Succede che La federazione tarda A dare A rinnovare la licenza a Treviso E ovviamente giocatori E allenatore Che sono dei professionisti Ma sono pur sempre Persone che devono guardare Anche alla loro carriera In tanti Si guardano altrove E vanno Eh questo passaggio è importante Specificarlo Perché magari chi si è avvicinato al rugby Da Da poco Appunto Non Magari si è perso quel passaggio lì No? Se voglia di raccontarlo un po' più Approfondire un po' Ecco Ecco Qui c'è uno dei miei punti deboli Che io ho sempre cercato di guardare Meno politica possibile No ma anch'io 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 Però quello che hai detto Quello che hai detto è importante Per capire insomma Alcune scelte Esatto Quindi Cercherò di essere Più neutrale possibile O più democristiano possibile Quello che volete Insomma Allora Succede che La licenza Per Poter giocare A livello celtico Durava quattro anni Dura ancora quattro anni Se non mi sbaglio Avendo cominciato nel 2010 Nel 2014 La federazione Poteva avere La possibilità di dire Guarda C'è un progetto migliore di questi O ci sono altre Ci sono altre motivazioni Per cui io posso dare Questa licenza a qualcun altro A te la tolgo Perché le posso dare massimo due A Treviso Succede che Non è che Cioè Questa è la mia opinione A Treviso Visti i risultati in campo In crescendo Non è che si potesse dire Tu non mi hai convinto A livelli di risultati Non Non ti do più la licenza Però Tant'è vero Che poi la licenza fu data Anche perché sarebbe stato Clamoroso Il caso contrario Però il ritardo Di questo Ha provocato Comunque Una fuoriuscita Di tantissimi giocatori Che in quel momento Vista anche La parabola ascendente Di Treviso E visto anche Come Cioè La giovane età Di tanti O comunque L'età Di piena maturazione Di tanti Questi giocatori Hanno fatto in modo Di dire Sì siamo professionisti Ci guardiamo intorno Per esempio I vari McLean Berquist Che era arrivato Quell'anno Altri giocatori Si guardarono intorno E andarono Alberto De Marchi Ci fu Una diaspora Di Treviso E infatti Già quell'anno Successivo Al 2013 2013 2014 La squadra Ne risentì parecchio Perché non riuscì Quasi mai Ad essere Dello stesso livello Della squadra Della stagione precedente Franco Smith Se ne va Nell'inverno Del 2013 Cioè Dicembre 2013 Gennaio 2014 Adesso non mi ricordo La data di preciso Però Non finì Non finì l'anno Non finì la stagione Con la squadra Erano gli anni In cui pensavamo Che James Ambrosini Avrebbe salvato Il rugby italiano Cosa mi hai tirato Fuori adesso Guarda Guarda Se vuoi Io potrei farvi La fenomenologia Di tutta Quella squadra Di tutti Quegli giocatori Che sono arrivati Nel giro di due settimane Nell'estate del 2014 Sono arrivati Allora Mi sono arrivati Un paio di buoni Perché uno Era Jaden Hayward E Un altro Era Lua Manu Che giocò Bene Quell'anno Infatti Poi se ne andò subito Perché trovò Gli Arlekins Ma arrivarono Dei giocatori Veramente Cioè che per contesto Peraltro Furono i proponibili Cioè non so se lo ricordi Joe Carlyle Eh bravo Cioè Bravissimo Le aperture Di quell'anno successivo Furono appunto James Ambrosini Joker Slice E Sam Christie Insomma Non dei giocatori Indimenticabili Passati per l'Italia Ecco Allora Faccio una sola Eccezione Sam Christie Giocava D'apertura Ma perché Casellato Preferiva avere Un'apertura Di manovra E comunque Abbastanza Cioè Non esile Diciamo Perché Christie Di base Era un centro E infatti Le sue migliori partite Fatte a Treviso Le ha giocate da centro Poi avevi Un'apertura Come giocare l'Aile Che era un'apertura Che Io me lo sono Anche andato a vedere Perché io Avevo tantissimo tempo Da perdere Fondamentalmente Ma era un giocatore Che in premiership Il suo lo faceva Qual è il problema? È che se tu Sei Vieni inserito In un contesto In cui Tu sei il mediano D'apertura Hai una mischia Solida Valida Che avanza Un mediano così Classico mediano Con il gran piede Che corre un po' Pochino Come le tradizioni Di una volta Un giocatore del genere Fa anche il suo Ma se li trovi Quella Benetton Che era una squadra Era un cantiere A cielo aperto In cui sono cambiati Tantissimi giocatori La mischia Non può essere Da subito Protagonista O meglio Non può più essere La mischia Che aveva Praticamente installato Lì Franco Smith Di base E ti trovi Una mischia Che retrocede Dietro Non c'è tutto Questo amalgama E poi Tu ci smetti E non ne placchi Uno manco Se lo disegnano L'avversario Mi viene in mente Per essere cattivi E poi torniamo Su Franco Smith Perché io e te Abbiamo un po' La cosa che ci perdiamo Ma è bello così Perché è bello Intanto percorrendo La storia di un uomo Percorrere anche Quella del rugby italiano Mi viene un po' In mente Tifiden Il povero Tifiden Alle Zebre Ecco lo potremmo Paragonare con quel profilo Lì Ma anche a livello di carriera Anche lui Esatto Però diciamo che quest'anno Ha anche dei competitor interni Tifiden Un attimo migliori Rispetto a quando è arrivato Perché Montemaury A me piace tantissimo Sì sono d'accordo Torniamo a Franco Smith Torniamo a Franco Smith È presente quando Adesso il nomino dei mostri Che sono Che era in uno dei casi Clerici e Tommasi E uno dei due Veniva chiamato Il Dottor Di Vago E allora io ti farò Nel mio personalissimo Cartellino No no Il discorso Torniamo a Franco Smith Lui Torna in Sudafrica Di lì a poco Entra a far parte Dello staff Degli Springbox Perché Diventa l'allenatore Di tre quarti Degli Springbox In una Diciamo Gestione Un attimo Sfortunata O comunque poco avveduta Che è quella di Alistair Cozzi Che poi verrà a allenare Anche a Rovigo Per poco Ma allenarà Anche a Rovigo E Lui è allenatore Di tre quarti Non passato Indimenticabile A Rovigo Cozzi Non è che Ma Se consideriamo Che Con la nazionale Sudafricana Perderà con l'Italia Nemmeno Nemmeno Limbo Esatto Sì Diciamo Che lì C'è un Motivo Un po' Mettiamola così Ci sono stati Vari errori Dal punto di vista Gestionale Lì Nel senso Se tu Prendi Tantissimi giocatori Dai Lions Che stanno Facendo benissimo Parliamo di 2015 2016 Stanno facendo benissimo Con un gioco Che è completamente Diverso da qualsiasi Tipo di gioco Sudafricano Possiate avere in mente Quindi quello Basato sulle sportellate Sulla mischia Prendi questi giocatori Che sono creativi Sono elettrici E li metti a giocare Come giocano G-Sprimbox Vecchi tempi Tu capisci Che Possono Possono far bene Ma non faranno Mai benissimo Questa è la fine Che fa Il Sudafrica Quando viene a giocare A Firenze E Franco Smith Se lo vedete È lì che Ogni tanto Smadonna Vicino a Cozzi Quando non va Proprio tutto bene A livello Di campo Rimarrà Ad allenare Gli Springbox Fino alla fine La gestione E poi andrà I Cheetahs Sempre come Allenatore di tre quarti Finché Arriviamo al 2019 2019 Ci stiamo avvicinando I mondiali E Sembra che ci stiamo avvicinando Anche bene ai mondiali Ma noi siamo d'Italia E non ci arriveremo mai A un mondiale serenico E succede che Qualche mese prima Di Partire Per Per il Giappone Arriva la notizia Che Non viene rinnovato Il contratto A Mike Cat Che era il nostro Allenatore di tre quarti Connor Roche Che era il nostro Allenatore Aveva Praticamente Già mezzo Incassato Il rinnovo Correggimi se sbaglio Ma praticamente Si basava Il suo Cioè Si puntava ancora Su di lui Dal 2019 In poi Almeno fino al 2023 Però Gli viene a mancare Mike Cat Che non verrà rinnovato E Dai Sudafrica Arriva la voce Addirittura Proprio dai Citas Che postano Online Congratulazione A Franco Smith Che è stato scelto Dalla Federazione Italiana Rugby E allora Questo succede Un paio di mesi Prima del Mondiale E la federazione Comincia a dire No Non è vero C'è questo rimbalzo Però la notizia è vera Di lì a poco Capita Che Conor Shea Si dimette Dalla Dalla panchina azzurra E Rimaniamo praticamente Con un allenatore Di tre quarti Che è Franco Smith E nessun CT Nessun commissario tecnico L'Italia si butta Su Rob Howley Che era il vice Allenatore Era il vice Di Gatland Al Galles Però succede Che Si fa Buttare in mezzo Al caso scommesse Viene beccato in pieno E viene squalificato L'Italia Praticamente si ritrova Per Il posto Visto che Adesso faccio io Il dottor Di Vago Parentesi brevissima Aulei Amicissimo Di Gatland Adesso Rientra Nel giro Nazionale Gallesi Per adesso Sta allenando L'Under 20 E un paio di settimane fa Ci ha fatto Un brutto scherzetto E magari Se la sarà Se la sarà Risa un po' Lì Pensando appunto A quel momento In cui doveva essere lui L'allenatore dell'Italia Chiusa Siamo che Si è fatto lo scherzetto Cioè Si ha fatto lo scherzetto Ma Lo abbiamo aiutato parecchio Ce lo siamo fatti noi Sì Sì È vero Quel che gira Riguardo a Alcune interviste A Brunello E altro Sembra che i ragazzi Non avrebbero affrontato al meglio L'ultima settimana Ma Non divagiamo Oltre Non divago io Oltre No Sì tra l'altro Arrivato Ma penso da quest'anno Forse allenatore Dell'Under 20 Gallese Perché si è fatto Qualche anno di esilio In Canada Sì Esatto Poi è tornato Gatland E Gatland All'inizio Lui aveva chiesto subito Di farlo tornare Però gli hanno detto Ascolta Sarebbe meglio Che passi ancora un po' di tempo E poi Sottraccia Fai in modo Che non ti vedano Esatto Esatto Soprattutto Stai lontano Dai punti snai Gallesi Esatto Poi tendono a scommettere Un po' su tutto Lì Esatto Ma il problema È che lui Aveva scommesso sul rugby E addirittura Sulla propria squadra Quello era il grande problema Un po' come quello Che adesso è successo Nel calcio Però Ritorniamo a Franco Smith Mi piace Però mi piace questi Mi piacciono questi Devi prendermi per l'orecchio Ogni tanto No ma sono io che sto divagando Ma mi piacciono queste finestre Scusa Ultimissima piccola finestra Se vogliamo parlare di scommesse Ci sarebbe un altro caso In Galles Di un papà Che va Verso Fine anni 90 Va in Va in un punto scommesso E dice Scommetto che mio figlio Diventerà il Maggior metame Della nazionale gallese Di rugby E tutti gli ridono dietro E dico Ma che cosa stai dicendo Quotamelo Quotamelo Voi a spenderli Da altre parti Cosa viene a fare qua E qualche anno dopo È passato l'incasso Perché si chiamava Il figlio si chiamava Shane Williams Quindi Quello che significa Avere fiducia Nei propri figli Il cosiddetto Scusate il termine veneto Il cosiddetto Intivedere Detto questo Torniamo al nostro 2019 Ma siamo già inizio 2020 E ci troviamo Senza un allenatore Della nazionale italiana Quindi Se vi ricordate bene Le Le insegne O comunque Le sovrimpressioni Quando guardavate Una partita dell'Italia Ad inizio 2020 Quelle poche partite Abbiamo potuto purtroppo vedere Vedevate Franco Smith Interim coach Perché? Perché In attesa Di capire Cosa fare Con Il commissario tecnico Franco Smith È a disposizione Viene portato A fare L'allenatore Il selezionatore Dell'Italia E qui arriviamo Al punto Il famoso Traghettatore Dicono sempre Il famoso traghettatore Infatti lui sarà Diventerà Ufficialmente Head coach A giugno Del 2020 Però arriviamo Qui Al punto Che Mi interessava Ed è quello Che un po' Volevo Quello che mi provocava Il prurito Di cui parlavo prima Di base Allora Piccolo contesto Italiano L'Italia esce Dal mondiale 2019 Con Un Grosso Beh Diciamo che È il famoso Mondiale In cui pareggiamo Con gli All Blacks Intanto Il tifone Quello Quello del tifone Perdiamo Contro il Sudafrica Ma quello Era abbastanza Prevedibile Magari avremmo Preso 20 punti In meno Con un rosso In meno Ma Non si andava Comunque Ai quarti Perché comunque Era già scritto Sta di fatto Che l'Italia Dopo Mondiale 2019 Si ritrova Ad avere Molti giocatori Molto avanti Con l'età Molti dei giocatori Diciamo Di maggior spicco Cominciano ad avere Un po' Di anni Un po' Di cap Alle spalle Franco Smith Ad inizio 2020 Decide di Tagliare Inizialmente Fa come tanti Come tanti Allenatori Al primo cap Come anche ha fatto Chezada Quest'anno Cambia relativamente Poco Perché se andiamo a vedere Quest'anno Italia Inghilterra Era la squadra Di Crowley Praticamente Anche a livello Di gioco Cambia relativamente Poco Tranne Una cosa E contro Il Galles Al debutto Sceglie Come primo centro E questo è uno Di punti Per cui Franco Smith Si è preso Tantalmente Tanti Cioè Secondo me Ha un acufene Grande come una casa Già Ancora adesso Mette come primo centro Carlo Canna Ora Se andiamo a vedere La storia di Carlo Canna Carlo Canna Non ha mai A livello professionistico Il centro Non l'ha mai fatto Ed è un punto Su cui si può discutere Perché diciamo Cioè Mettere un giocatore Già professionista Da qualche anno Apertura di Buono Barra ottimo Livello Internazionale E lo metti a giocare In un ruolo In cui non l'ha mai giocato Rischi veramente Di fare la fine Di Nick Mullet Che mette Mauro Bergamasco A mediano di mischia Per quanto Apertura e centro Non ci sia La differenza Che c'è Tra terza E mediano A livello di gestualità Mettiamola così Io mi sono dato Un paio di spiegazioni E secondo me Sono Adesso Senza timore Di sembrare Lo sborone Che c'è in Emilia Romagna Di cui si parla In Emilia Romagna La prima Va fatta risalire A quando abbiamo Parlato prima Degli esperimenti Del doppio Playmaker Che già aveva Usato a Treviso Se andiamo a vedere Metteva Allan Apertura Metti Carlo Canna Primo centro Il secondo motivo Che verrà poi Spiegato Da Franco Smith Con una semplice domanda In un podcast Italiano Qualche mese dopo È il fatto che A livello di centri In quel momento L'Italia Era cortissima Ma molto corta Tanto che In questo podcast I due intervistatori Non facciamo nomi Ma i due intervistatori Gli chiederanno Conto Ma Scusi Scusa Franco Gli diranno Ma Ti viene Ti viene imputato E ti imputiamo Il fatto di Mettere Carlo Canna Ai centri Che è fuori ruolo Ma Non ci sono altri centri Da mettere al posto suo Franco Smith Li guarda E dice Ah sì Quali Silenzio Dei due conduttori Del podcast In quel momento E Poi Non è vero Non è vera la cosa Per cui Franco Smith Terrà sempre Carlo Canna Ai centri Perché poi Viene portato avanti Anche questo discorso Perché È vero anche Che nel 2021 Cominciano ad esserci Un paio di centri in più Della nazionale italiana Uno è Zanon Che comincia A fare buoni passi A livello internazionale E l'altro è Brex Che finalmente È utilizzabile Della nazionale italiana Dopo aver Fatto una parentesi Con il Seven Per Facilitare il passaggio Il problema è che E siamo nel 2021 Il problema è che Nel 2021 Zanon si rompe E quindi Carlo Canna Torna a titolare I centri E giù A dire Apriti cielo Apriti cielo Poi Aggiunto il fatto Che Il 2021 Se andiamo a vedere A livello statistico È il peggiore Anno Del peggior Se nazioni dell'Italia Nella storia Il fatto è che poi Lui appena ha un centro A disposizione Lui Carlo Canna Lo mette in panchina Perché Per farlo giocare Poi per avere un jolly Che copra più ruoli Poi in panchina Il problema è che poi Anche all'ultima partita Lui mette Mori Uscito dall'Under 20 A primo centro L'Italia fa La sua peggiore Prestazione A Marefield Contro la Scozia Perde 52 a 10 Una partita La classica partita In cui Veramente A un certo punto Ti viene da cambiare canale A me è successo Tre volte Avere la sensazione Di dire Cambio canale Durata per l'Italia Nella storia Però non l'hai mai fatto Non l'ho mai fatto Però lì È la volta E ci sono andato più vicino In assoluto La mano così Guarda Quella volta Ci sono andato Veramente tanto vicino E C'è questo motivo E poi Chiaramente Vengono imputati i risultati A Franco Smith Non può essere altrimenti Cioè da lì Non possiamo scapparci Quella è la nazionale Che ha vinto Che ha vinto di meno Perché Se vogliamo Metterci dentro Una vittoria a tavolino Con le figi Nel 2020 Nell'Ottum Nations Cup Siamo a 1 Quindi Hai ottenuto una vittoria E non l'hai ottenuta sul campo Però A quel punto lì Gli viene imputato questo Gli viene imputato anche il fatto di Aver usato Vabbè Diciamo che c'era Una frase Mi aveva fatto morire Su un forum Ma perché Franco Smith Ha messo in campo Garbisi Trulla Varney E questa gente Tanto forte Nell'Under 20 E adesso Non riesce a farli Giocar bene Nella nazionale maggiore Probabilmente Perché avevano 20 anni Probabilmente Perché ha 20 anni Sai com'è A me aveva fatto Impazzire Per dirti Proprio per dirti questo Nell'Ottum Nations Cup Lì Andiamo a giocare in Galles L'ultima partita Quella partita lì Il Galles Aveva Qualche Giocatore Aveva Aveva un po' Svecchiato anche lui La rosa E quella partita lì Gliela stiamo incartando Perché a un certo punto Siamo Allora andiamo sotto Subito di due mette Ma poi gliela giriamo La partita Segna una meta Meier Che Prende In corna E investe Elioid Quello che ha giocato Me la ricordo bene Con gli Scarlet Sabato scorso Ha giocato in nazionale Lo investe Praticamente Se guardi la meta Andiamo avanti Di uno o due punti Lì La partita L'Italia Gliela ha incartata Il Galles Però lì Vedi la differenza Tra quella nazionale In quel contesto E Una nazionale Come il Galles A un certo punto Vedi che Il Galles Gira la partita Con due mete Una la fa Gareth Edwards Mediano di mischia 27-28 anni E l'altra La fa Fale Tau Anche lui Una trentina D'anni No ma certo Se tu vai a prendere Quel Quell'Ess Lì Per esempio Tu prima Hai citato Gli anni 2019 2020 2020 2021 Se tu vai a prendere Ad esempio La partita Del 2021 Quel Galles Lì Che era L'ultimo Diciamo Galles Dei Grandi senatori Eccetera Eccetera Aveva un'età media Per esempio Davanti Degli avanti Di 31 anni L'Italia Aveva un'età media Degli avanti Poi Dei backs Dei tre quarti Ancora Ancora inferiore Ma Degli avanti Di 25 anni Ebbè Fa tutta Fa tutta la differenza Del mondo Soprattutto Quando poi Gli avanti Di cui parli Sono Ken Owen Sono Alunwin Jones Sono Jost Navidi Sono Justin Tipuric Sono Tobi Faletau I Finutieri Più che Negli avanti Voglio dire Io vorrei Andar vedere La felina Penale Di Ken Owen Se è ancora Penita o meno Si scherza Chiaramente Quindi Ovviamente Insomma Tutto quello Che viene Imputato A Franco Smith Va giustamente Relativizzato Va relativizzato Perché Se tu vai A vedere Quella squadra Lì Io faccio Il ferimento Quella del 2021 Perdiamo tanto male A Roma Contro loro Adesso Tantissimo A una meta Credo 48 a 7 Ecco Esatto Ma se andiamo A vedere Quella del 2020 In cui Si vedeva Un Galles Già Meno esperto Perché comunque L'hanno usata In tanti Per provare Giocatori Anche noi Perché Lì abbiamo provato Trulla estremo Per esempio E non è che L'abbiamo provato Perché volevamo Fare esperimenti L'abbiamo provato Perché Ci siamo Trovati Cioè Nulla contro Jacopo Assolutamente Però in quel momento Siamo ritrovati Ad avere I primi due Estremi Che sarebbero stati Più avanti Nella Nella graduatoria Azzurra Impossibilità Di giocare Uno era Eward Per motivi Personali E l'altro E l'altro era Matteo Minozzi Però Quella partita Lì si è Visto proprio La differenza Tra una squadra Che può Permettersi Dei giocatori Di 27 28 anni Con un certo Tipo di Caps E un certo Tipo di Esperienza E una squadra A noi Se li può Permettere Quelli Sono giocatori A cui Che a noi Sono mancati E che mancano Ancora Perché sono Giocatori Che Se andiamo A vedere Quanti sono Gli azzurri Adesso Che hanno Tra i 28 E i 32 anni Cioè L'età Della maturità O comunque Del Per un avanti Soprattutto per un avanti Del massimo Della massima forma Della massima resa in capo Ce ne sono pochissimi Cioè Adesso Non me ne vengono in mente Così tanti E se ci sono Li abbiamo equiparati Cioè Ioane Per esempio Che comincia ad avere 28-29 anni Certo Certo Ma di fatti Io ho sentito Un'intervista Poco fa Proprio Andando curiosare Un po' In preparazione Della puntata di oggi Avevo sentito Un'intervista A Franco Smith Dove Lui parlava Di inizio Di un ciclo mondiale E lui diceva Arriveremo Al mondiale Quindi era ancora All'inizio Arriveremo al mondiale Con dei ragazzi Che avranno 26 anni E saranno Giovani Per un mondiale Perché lui Ragionava anche un po' Sugli standard Sudafricani Quindi diceva Poi arriveremo A quello dopo Con un'età media Sui 30 anni E mi ha colpito Questa cosa Perché lui Dava per scontato Tre cose Primo Che lui sarebbe Arrivato al mondiale E purtroppo E purtroppo Per lui Non ci è arrivato Due Che il gruppo Sarebbe rimasto Invariato E invece il gruppo È cambiato Clamorosamente Perché se noi Andiamo a prendere Sono andato adesso A prendere Quella nazionale Del 2019 Per esempio Insomma C'era C'era gente Che ovviamente È sparita Cioè Se tu guardi Ovviamente Quel Quel gruppo Quel Del 2019 Non so Nell'Italia C'era Fabiani C'era Stain C'era Tuivai C'era Braley C'era Benvenuti C'era Bisegni C'era Bellini C'era Iward Sto parlando Dei 15 Questo Nel 2019 Stiamo parlando Di gente Che non è più Nemmeno Nell'orbita Più lontana Della nazionale Quindi insomma Poi c'è stato Un cambio generazionale Clamoroso E poi Quello è stato Mondiale In cui Avevo fatto i conti Adesso non mi ricordo Se li avevo fatti bene Ma Della rosa Di quel mondiale Nel 2020 In 15 Non sono più Stati convocati Esattamente Quindi Quello era Il punto di partenza Poi lui L'ha ringiovanito Quel gruppo lì E Comunque Anche Quel gruppo Ringiovanito Tanti Di quel gruppo lì Sono poi Stati sostituiti Dai nuovi arrivi Tra quelli Che poi sono cresciuti Dall'Under 20 E quelli I Lorenzo Cannone I Rosvincent I Marin Che sono arrivati dopo E quelli che invece Sono stati poi Naturalizzati Dall'estero Appunto Mi viene in mente L'Ainag Appunto Lo stesso Odogu Quindi insomma Lui Lui vedeva L'Emb Lui vedeva Un panorama E poi E' cambiato Clamorosamente Il mondo del rugby E quando appunto Quindi lì si facevano Quelle Diciamo Quelle Critiche Probabilmente Stavamo parlando Di uno scenario Che mai avremmo Immaginato Cambiare in maniera Così profonda Negli anni successivi Probabilmente Era uno scenario Che lui Essendo addetto Ai lavori Vedeva Più di noi Che magari Lo seguiamo Meno Voglio dire Perché Per quanto Siamo appassionati Di rugby Per quanto Parliamo di rugby Anche online Eravamo un po' Meno addetti Ai lavori Di lui Fondamentalmente Però Poi sono cambiate Come hai detto tu Sono cambiate Tante cose Si è allungata Un po' La coperta Da noi E I giocatori Comunque Sono cresciuti Perché comunque Un paio di anni Di esperienze Più Fanno tutta la differenza Del mondo Leggevo La famosa intervista Di Michele Lamaro Quella da cui poi Sono venute fuori Le polemiche Con il Galles Con la federazione gallese Lui In un'altra parte In quell'intervista Dice Che tutto questo Lo dobbiamo Anche Agli allenatori precedenti A cominciare Dal coraggio Di Franco Smith Perché Adesso Franco Smith Poteva benissimo Dire Ok Mi faccio Un altro anno Per garantirmi Un po' Di risultati Mi faccio Un altro anno Con i senatori Quindi Mi tengo Stretto Award Mi tengo Stretto Ah un altro Giocatore Aspetta Giocatore Un po' Di livello Si e no Che poi È stato Per cui Franco Smith È stato accusato Di non farlo giocare Parisse Infortunato A tutti e due I sei nazioni Di sua competenza Se lui Se lui Avesse Voluto Veramente Secondo me Puntare Ad avere Una Una buona Percentuale Di vittorie O comunque Una percentuale Migliore Di quella Che ha avuto Non avrebbe Ringiovanito Così di botto La nazionale Avrebbe preso Avrebbe convinto Più di qualche Senatore A rimanere Almeno Per un altro anno E provare A giocarsi Delle partite Mi viene in mente Quel 2020 L'ultima partita Prima del lockdown Era Italia-Scozia Giocata a Roma È una partita Che l'Italia Ha perso Principalmente Perché Per peccati Di gioventù Che è una partita In cui la Scozia Se presentata a Roma Aveva una paura Di perdere Fortissima Ma l'Italia Ne aveva di più Per fare un esempio Ma poi Ti Ti dico E poi andiamo magari A ragionare In chiusura Sul Su Franco Smith Ti dico che Probabilmente Se Franco Smith Non avesse Magari fatto Quelle scelte Anche abbastanza Estreme Perché Appunto Era stato Criticato Non solo Per Canna 12 Era stato Criticato Per aver messo L'amaro a 8 L'amaro a 8 Esatto Non te lo trovavi A farti La meta Per esempio Di quest'anno O comunque Il cambio di ritmo Che è riuscito a dare Nonostante le critiche Perché magari Si è costruito Uno zaino Che poi è andato avanti Portandoselo sulle spalle E magari oggi Si sente più maturo E la stessa cosa Magari Vale anche Per dire Per un Garbisi Io ricordo che Franco Smith Fece esordire Garbisi Che aveva praticamente Quasi più partite In nazionale Che nel club No no Togli quasi Non aveva ancora Debutato a Treviso Non aveva ancora Debutato a Treviso E quindi Oggi ci ritroviamo A fare questa chiacchierata Per capire un po' Anche il contesto Da cui arrivano Poi le Le vittorie Di Chessada Perché si è parlato Giustamente Di Crowley Però bisogna dare Anche un po' Di merito Al buon Franchino Ecco Diciamo che Adesso Per Non vorrei Inimicarmi I tifosi Le vecchie glorie Di tifosi Però È come dire Grande Cost Grande George Cost Ma E dimenticarsi di Foucard Per esempio Faccio un esempio Adesso chiaramente Mi Troverò delle coltellate Qua dietro Per aver detto Una cosa del genere Però anche lì Foucard Fece debuttare Tantissimi Di quelli Che poi Porteranno Che poi Cost Porterà A Grenoble Ma porterà A vincere In giro per l'Europa Verso la fine Degli anni 90 Foucard Adesso è meno ricordato Di costo Mi sembra abbastanza Comoda come frase Abbastanza Riscontrabile come frase Sì proprio oggi Proprio oggi è uscito Abbiamo fatto uscire Un video Dove con Valerio Abbiamo fatto La tier Con Valerio Bardi O Valerio Di Podcast Abbiamo fatto La tier list Degli allenatori Devo andarlo a ripescare Subito Davi il pre in poi Ma l'ho fatto uscire Dieci minuti Prima che iniziamo Noi In maniera che tu Non potessi Vederlo No Scherzo È una casualità No Devo andarmelo a vedere Diciamo che ho Sempre dei sentimenti Contrastanti Dei vari allenatori Perché Ogni singolo allenatore Mi ha portato A dei momenti Di gioia Mettevole la partita Anche di momenti In cui Il crocifisso di casa Doveva stare un po' attento Mettiamola così Comunque per chiudere Su Franco Smith Poi insomma Franco Smith Lascia la nazionale italiana Ma va Va a togliersi Qualche bella soddisfazione A Glasgow Per andare più sul presente No Diciamo che Diciamo che Con Con l'arrivo di Innocenti Alla presidenza Cambia l'allenatore Arriva Crowley Ad allenare A sostituire Franco Smith Franco Smith Viene Spostato A In un ruolo Più dirigenziale Della federazione italiana Di lì a poco Però si guarda attorno Arriva l'offerta di Glasgow E a Glasgow Direi che sta facendo Discretamente bene Perché Vedendo come gioca E tutto Diciamo che si vede Un po' Una cosa che vedevo Anche sia a Treviso Che con la nazionale Cioè Tende tantissimo Tende Lui tiene tantissimo Alla preparazione atletica Della squadra E fa dei carichi di lavoro Che sono Molto importanti Molto Tanto intensi Questo porta Sì Ad avere la squadra In certi momenti Nei momenti di picco Ad essere Clamorosamente forte Clamorosamente atletica Ma porta A dei momenti In cui fa Un po' più fatica A carburare Soprattutto a inizio stagione Però A Glasgow Sta facendo Molto bene Tant'è vero Che l'anno scorso È stato nominato Allenatore dell'anno Eh sì Sono assolutamente D'accordo È un po' Questa cosa È un po' Diciamo Un Un fil rouge Dei sudafricani Nel senso di Prima di tutto Dobbiamo Essere i più forti Fisicamente I più veloci Quelli con più resistenza Dobbiamo essere I più grossi I più alti I più tutto E poi tutto il resto Viene dopo È ovvio che È più semplice Farlo con gli spring box Che farlo con la nazionale italiana Diciamo che Diciamo che la materia Prima è È leggermente più abbondante Da quelle parti Esatto Senza nemmeno andare Nei discorsi di genetica Però anche proprio solo Anche proprio solo Come numeri Diciamo che è leggermente Più abbondante Guarda Solo Un nome Un nome su tutti Scuman Pilone Piloni della Scozia In Sudafrica Non è che fosse così Considerato per la maglia nazionale Però guarda che pilone è Oggi è uno dei migliori Piloni sinistri del mondo Vedi te O Bramstein Per rimanere a casa nostra Certamente Certamente Quindi qual è il tuo Come Per chiudere A meno che tu non abbia Altre cose Di cui volevi Parlare Rispetto a Franco Smith Particolarmente importanti Vai vai Vedo Vedo che c'è qualcosa Che ti è rimasto Vai No Io Cioè Volevo un attimo Portare la chiusura Anch'io Perché poi Comunque Non vorrei stancare Un po' troppo Chi ci sta ascoltando Questo momento Per me è un piacere Ti ascolterei Tipo per un'altra Ora e mezza Però vai Tu Decidi Tu i tempi No Io concludo Vorrei andare Verso la chiusura Dicendo Sì Se andiamo a vedere Le statistiche È un allenatore Che ha provocato Qualche grattacapo A livello Di scelte A livello Di Di risultati Non sono stati Migliori anni Della nazionale italiana Se andiamo a vedere Questo Ma tante volte Bisogna sapere Prendere E contestualizzare Al meglio O Al nostro meglio Fondamentalmente Il Quello che Quello che Si sta vedendo Perché Sia Andando a vedere Un po' nel passato Sia andando a vedere Poi Qualche anno Dopo Qualche mese dopo Quello Che diventerà Quel gruppo Se andiamo a vedere Questo Franco Smith Non è stato Il diavolo Che è stato dipinto Nei mesi Negli anni In cui ha allenato Secondo me Assolutamente Sempre secondo me Perché poi È sempre Un po' di acufene Arriva anche qui Ogni tanto No no Fai benissimo Però io sono d'accordo Con te E Assolutamente Anzi Credo che Li dobbiamo Un bel ringraziamento Intanto io lo dico Anche da tifoso Di Treviso Per quello che ha fatto Appunto sia in campo Che in panchina Quattro scudetti Due da giocatore Due da allenatore Portano anche la sua firma Il Appunto Io La chiuderei così Io direi Non lo so se sei d'accordo Con me Cristian Che Franco Smith Ha in qualche maniera Zappato il terreno Ha preparato il terreno Poi Crowley Ci ha messo i primi semi I primi semi Proprio del gioco No E adesso Che Sada Sta in qualche maniera Facendo Inizia a raccogliere Ma nemmeno Sta curando Sta curando Le piante Che crescono Secondo me E sì E poi magari ogni tanto Qualche Magari qualche ciliegina Dall'albero La tira anche giù La mettiamo nel cesto La mettiamo nel cesto Però probabilmente Il raccolto Probabilmente il raccolto Si spera che sia Forse nemmeno al prossimo Ma quello dopo Ancora di Mondiale Perché al prossimo Mondiale avremo Vari giocatori Che in questo momento Sono già protagonisti Vedi Menoncello Vedi Ross Vincent Vedi Lorenzo Cannone Vedi Tanti giocatori Zuliani Molto giovani Che al prossimo Mondiale Avranno tipo 27 anni A quello dopo Avranno quei famosi 30-31 anni Di cui Franco Smith Parlava Per essere Al massimo Del proprio splendore A un campionato Del mondo Ecco Ultima cosa Mi sarebbe piaciuto Vedere Una nazionale Con Franco Smith Allenatore Che avesse Un numero 8 Propriamente detto C'è un numero 8 Di ruolo Ma nemmeno I due Che abbiamo adesso Quindi Cannoncino Lorenzo Cannone E Vincent Bastava uno Avere un paio Di centri E avrei voluto Vedere la differenza Con quello Che poi è stato Cioè Sarebbe bastato Un po' Ledri Meno sfortunato Da quel punto di vista Perché Parliamo Sì Parliamo anche poi Della sfortuna Di alcuni giocatori Che avrebbero potuto Darci una mano In quel ricambio Lui C'è Polledri Minozzi Campagnaro Campagnaro Meier Campagnaro Campagnaro Che caspita Ancora adesso Campagnaro Credo che ci abbia Un 30-31 anni E del 93 Se mi sbaglio Potrebbe Cioè Campagnaro Teoricamente Se avesse seguito Una carriera lineare Oggi Dovrebbe essere Nel suo prime Perché tu guardi Altri centri Di altri nazionali Non so Mi viene in mente Bundiaki Quell'età c'hanno Tu te lo ricordi 2016-2017 Quelle annate lì Era un giocatore Era Menoncello Era Menoncello Adesso Menoncello Si toccherà Si toccherà Quello che c'è Da toccarsi Diciamo Menoncello Però Menoncello Ha una struttura fisica Diversa Sì Sì Però anche Campagnaro Era bello potente Era molto carrozzato Mettiamola così Ovviamente tutti ci ricordiamo La metà La metà L'Inghilterra Però quella è un'altra storia Che racconteremo Tra le tante storie Che racconteremo Con Cristian Cristian Io ti ringrazio Ringrazio Tutti coloro Che ci hanno ascoltato Settimana prossima Di cosa parliamo? Già lo sai O lo lasciamo aperto? Puntini 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 Ci sono talmente tante cose Che facciamo una riunione Di gabinetto A parte io e te Di questo Va bene Comunque grazie a te Per l'accoglienza Grazie a tutti Quelli che non Mi accoltelleranno Mi aspetteranno fuori di casa A cui darò il mio IBAN Dopo se non è piaciuto A parte di scherzi Comunque grazie a tutti Per l'accoglienza E alla prossima Alla prossima Grazie Ciao Ciao Ciao